Questo è il faro da sotto Ok, siamo sopra Dopo 350.000 scalini Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Siamo dal ristorante Gas a Senoguschi Un ristorantino molto bello Che è stato fatto da una gas station o un'auto rimessa E abbiamo preso il Bombardone Il Bombardone Ok, è arrivato il mio piatto Molto bello Ciuschi, cosa hai preso? Anche lei? Mia mamma ha preso questo con il bacon sopra E Tony ha preso questo con tutto il bacon e i panini C'è anche una gang di mozzo ciclisti Molto bello quel giacchetto Ovviamente non si può mangiarlo in questa situazione Quello che volevi fare con il formaggio di... C'è anche un'acqua locca Guarda com'è giulsi C'è stato una scorrezza E' veramente giulsi Andiamo dentro come il pasto Possiamo vedere quanto è giulsi Allora entriamo nel vino Com'è che si può fare? E' un'acqua E' un'acqua locca Per quanto è così Com'è conserto? Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.